Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi? Ma sicuro? È il maestrino che diresse ai filodrammatici l'oratorio di Haydn? Proprio lui. Vale Bellini. Se tutta l'opera è così, sarà un vero successo. Dov'è questo Verdi? Qui a Milano. Voglio vederlo subito. Bisogna che lei sappia. Verdi è un po' orso. Lo so. Ed è in collera con me. Perché? Fui proprio io a consigliargli di scrivere un'opera e a dargli quel libretto dell'Oberto con la promessa che gliel'avrei fatta rappresentare. Le malaugurate vicende dei filodrammatici me l'hanno impedito. Bisognerebbe ora essere propri oscuri prima di promettergli. E qui già da diversi mesi, con la moglie e due bambini. La moglie e due bambini? Sì, sì. Ha sposato la figlia del suo protettore, Barezzi di Busseto. C'era proprio bisogno di andarsi a sposare così giovane. Ma se i figli gli servono a scrivere opere, gli faccia pure un'impilata di gemelli. Beh, vedrò Marelli stasera. Venga domani con Verdi alla stessa ora. Ma soprattutto non gli dica nulla di me. Grazie mille!